La Zarenka difende Ronaldo e tutti sui social. Doha, Qatar, sabato scorso il Portogallo ha perso contro il Marocco nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2022. Mentre Cristiano Ronaldo stava probabilmente vivendo la sua ultima Coppa del Mondo. Il cinque volte pallone d'oro è tornato negli spogliatoi in lacrime. L'attaccante portoghese ha parlato anche questa domenica sul suo account Instagram. Dopo questa terribile delusione, il giocatore ha ricevuto un supporto inaspettato da Victoria a Zarenka. Il tweet in difesa di Ronaldo la tennista bielorossa ha criticato chi criticava Ronaldo. Facendo un tweet sul proprio profilo personale per difendere il fuoriclasse portoghese. Perché le persone sono così veloci nel fare a pezzi una persona quando stanno attraversando un momento difficile nel loro sport o nella loro vita? Vi fa sentire meglio cosa? Non capisco. È crudele. Virgola.